Ciao amici, sono Paolo, l'assaggiatore ufficiale di questo canale e Sara è la in cucina che cucina il piatto che sto per presentare oggi. Ciao! Oggi Sara presenta la carbonara che è uno dei piatti italiani più famosi al mondo. Sentite Sara in cucina? La carbonara è uno dei piatti più distrattati italiani all'estero. Panna, funghi, pollo... a me piacciono i funghi, però non nella carbonara. Di seguito un esempio della carbonara che si trova al supermercato all'estero, in questo caso siamo in Inghilterra. Anche oggi, Jack Russell, è alquanto dubbioso. Una piccola parentesi riguarda il vino. Preferibilmente sulla carbonara serve un vino bianco. Ora vediamo come Sara prepara la classica carbonara italiana. Grazie. 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 Grazie a tutti.